Ola! Suscrivete a questo canale, vamo già! Chico, e chicas, se ti aiuto? Este pedazzo del blog, este video, chico Con tutto il mio video, con tutto il mio corazzo Ricorda che tengo qui, e uno elbo, che io tengo qui Uno elbo Perché lo puoi tenere a un mio mio Otro mio mio, che lo do, a qui, a la tabla Il video che vanno a vedere Il video che vanno a vedere Chico e chicas, non c'è il video che ho qui Un conto, è un caso Si, non c'è il mio canale di YouTube Non si può vedere niente Questo video si va a vedere Il video si va a vedere Il video si va a vedere Il video si va a vedere Questo è fille Ne ho mettere! VogDPI! Sville che tuvi cara A questo canale Sville Sville Attra a questo canale Snittel, check Il video che ci sono sono nuovi o noi qui e lo miro che ci ha fatto che ci creda iscriviti iscriviti che è di iscriviti estés inscriviti cliccando in la campanita la mia amica è di grande a questo video Chico io ho fatto molti video, mi ha llamado la tensione di qual'video di qui. Chico e chica, sì 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 le gustavo un video a questo chico, damelo a con commentare, dalle i commenti. Comentame chico, comenta me chico, qual'a parte si le gustava a voi. chico yo 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 creo que usted se suscriba a este canal chico que este canal es como se llama oficial este este canal es oficial me lo dice este este mi practico el que lo voy a corta bastante cosa como yo hice un castellero le informa que publicarla y mucho mi contenido por este video chico por aquí todas estas cosas chico pero hasta que nada chico a dedicar chico que como yo conseguí seguidores y como preparé mi canal de youtube chico y como y como yo hice mi canal de youtube chico ustedes que también te digo chico que leen el botón de a chico que llegue a esta venta de mañana chico por favor eso me lo pere con eso me lo pere con chico que es que no está gustando mi vídeo chico que me interesa a mí es decir que yo soy contenido a mi canal y ya yo 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 y a ustedes de mis seguidores que también en este video el que es seguir seguidores necesito que se suscriba que se suscriba a mi canal de youtube y que leen un pedazo de like a este video a este video y cual parte y cual parte que le gustó chicos déjame en la cara de los comentarios yo lo leo todos los días yo lo leo cual llamo cual llamo la atención para subir otro video a ustedes a este canal chicos o chicas un pedazo de like chicos y suscritos a este canal de oficial chicos 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 yo vivo yo vivo en la otra ciudad otro país yo vivo en otro país yo vivo chico de panamá chicos 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 y chicas este es mi novio que me está sentiendo chico y chicas Chico, è che quede vedere l'aeroporto, chico, come lo io mi stai chiedendo, chico, lo delle, chico, è il primo link della descrizione, corre, 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 corre